musica Alla prossima Allora io stiamo con un amore, non mi sapeva... Ma io veramente stasera faccio qualche panocchiaio per fare un piatto di pastandano E che da selezionare? Ma quale pastandano? E' cecca, compa! E tu? E' cecca! E' per le panocchierne, sciacquate! Ma quale pastandano, compa? E' le sciacquate! Ma questo stiamo a giocare, se ci mettiamo i rucoli A smussatore, a safanocchia No, non può essere, non può essere la panocchiaio Ma hai da 4 c'è, non lo so Ma c'è una pozzocchiaio Che dici, compa? Una pozzocchiaio? E' così da mi stava a giocare Vi rilasca una per passare Vi' dovremmo colare un discorso Perchè a meno, non io... E' ovvio, non lo so ah 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 oh compà che succedi? al padre non si metti a cogliere che succedi? che succedi? che ti capito? poco tempo che ho calato le cose a me però ho calato e' una? e' una? e' una? e' una? aspetta che chiamo il dottore aspetta aspetta non puoi prendere due telefoni stai mori aspetta compà non devi trovare il campo e' che fa? oi spagate e' che fa? aspetta che stai tornando aspetta aspetta se hai fatto un saluto e una vottura che c'è lei sta a fare e' che fa? aspetta che c'è il saluto aspetta che c'è il saluto e' che c'è il saluto e' che c'è il saluto e' stamattina hai fatto una alternata eh? vediamo che cos'è il problema dottore mi aiuto manca a rispondere ehi che cos'è ma che cos'è questo casino che cos'è chi è dottore dottore capisci e sia calmo stia ma dove pensate essere un minuto io lo sogno rapisse subito un'emergenza c'è dottore entra aperto stia calmo prima che ci faccia una zeringata pure a lei sia calmo bisogna fare un taglietto dove è stato mosso il suo amico e succhiare energicamente la parte interessata e vede che il suo amico calmo che c'è ma quale soluzione vuoi? si fa così sennò il cappotto c'è quindi posso dire dal suo amico subito come c'è lei dottore? taglietto e succhiare energicamente ha capito? ho capito dottore ho capito tante augure mai del suo amico hai spera hai spera ciao 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 Ah ah come 시작i? E a fare? E a fare? E a fare? Che finis? Sì